Dico sempre che sono iniziative, nonostante non facilità di tenere insieme un po' tutto, ma sono iniziative che ci fanno molto piacere perché, lo dico sempre, inizio quasi sempre così a Roma in questo anno e mezzo di esperienza a Palazzo Chigi, riesco difficilmente a riconoscere i partiti di provenienza quando parlo con parlamentari, onorevoli, senatori o esponenti politici. Non so se questo sia un buono o un cattivo segno, nel senso che si stanno perdendo le differenze o semplicemente non sia bravo io, però faccio critica anche dopo 10-15 minuti a capire esattamente il partito. C'è una cosa invece che capisco dopo un paio di minuti, cioè se quel politico o quel dirigente ministeriale ha fatto o non ha fatto un'esperienza locale. Quello lo capisco dopo tre minuti. perché chi appunto viene dal governo nel territorio a vari livelli e a varie responsabilità come sindaco, come assessore, come assessore regionale, come consigliere comunale, sa cosa vuol dire amministrare, sa cosa vuol dire organizzare un'iniziativa come questa, sa cosa vuol dire soltare il tempo in modo totalmente gratuito alla propria vita, proprio percorso professionale per amministrare la cosa pubblica. E quando si arriva a Roma dopo un'esperienza del genere, credetemi, lo si fa in modo diverso. Quindi proprio per questo anche chi di noi, temporaneamente, è a Roma, gli fa particolarmente bene rientrare sul territorio per non perdere il contatto con chi sta in trincea, per avere anche uno scambio con chi sta in trincea. Uno scambio, dicevo prima, che a me piace molto avere ragione per cui, provo a essere il più breve possibile, ci sono già delle domande, mi piace rispondere, mi piace interlocuire, quindi lo scambio è fatto se il cipro con l'olesse. Io vengo qui e vi dico la mia opinione, che può contare anche fino a un certo punto. Non si sente fino in fondo, provo a parlare più forte, allora perché mi provo a parlare più forte. Quindi dicevo grazie per questa opportunità perché è importante per noi riuscire a mantenere un contatto con chi, ripeto, sta in trincea, con chi amministra, con chi porta avanti dei fatti, le decisioni che spesso a Roma prendiamo. Allora, mi pare di capire che il focus, ripeto, provando a essere non lungo perché, proprio in forza di quello che dicevo, mi piace avere un confronto, anche critico, mi piacciono le domande non quick. Mi pare di capire che parliamo soprattutto in generale dell'impostazione che abbiamo voluto dare con la legge di stabilità 2016 e poi un pochino più in particolare, questa presenza qualificata, degli amministratori dei provvedimenti sulla finanza locale, sui quali, devo dire, il mio ruolo nella capire di legge di Palazzo Chigi è più stretto, nel senso che mi occupo non solo di quello, ma in particolare, in particolare di quello. Allora, il mondo principale con cui mi piace raccontare la legge di stabilità complessivamente, poi scendiamo un po' sul problema degli enti locali, è duplice. Da un lato, voi sapete che, anche prima si faceva un accenno ai dati economici, stamattina l'Istat, nei giorni scorsi, stamattina e domani, che ridefinirà i dati macroeconomici sul PIL del 2015, la sintesi di tutto è che il Paese viene da un periodo non breve in cui la crescita adattava. Se voi guardate, sono circa vent'anni, fra una cosa e l'altra, un po' meno di vent'anni, che qualcosa si rompe nel motore italiano, nel motore della ripresa, dell'attività economica italiana. Vent'anni che erano preceduti da un periodo in cui si è cresciuti solo col debito pubblico, una statistica che ricordo sempre è che il debito pubblico italiano nell'81 era pari al 60% del PIL, 13 anni dopo, nel 1994, era quasi esattamente più del doppio, in realtà, il 121,8% del PIL. Quindi noi veniamo da una successione di anni in cui prima cresciamo negli anni 70 con l'utilizzo di svalutazione e inflazione. In sala c'è chi si ricorda, in Italia, con i tassi di interesse a due cifre, con l'inflazione a due cifre. Poi negli anni 80 si passa a crescere invece facendo esplodere il debito pubblico in quella maniera, che è esattamente la causa dei problemi di finanza pubblica che abbiamo tuttora. E poi negli anni 90, non potendo più usare nessuna di quelle tre droghe, perché di droghe si tratta, svalutazione, inflazione, debito pubblico, se usate in quel modo, hanno lo stesso effetto che hanno le sostanze stupefacenti, cioè ti fanno stare bene all'inizio, a quanto dicono, non stare bene all'inizio e poi dopo, quando passa l'effetto, ti trovi con dei problemi. Negli anni 90, non potendo più utilizzare nessuna di quelle tre droghe, non smettiamo dei fatti di crescere. Smettiamo di crescere e, a causa di classi deficienti, mia opinione personale, come tutto quello che sto per dirvi, che sia di centro-destra che di centro-sinistra non hanno fatto quello che dovevano per aggredire i motivi del nostro non crescere più. Basti ricordare, dell'euro forse parleremo dopo se avete delle domande da farvi, ma possiamo pensare a quello che vogliamo dell'euro. Ma il nostro ingresso nell'euro, dal 1996 al 2012, ci fa risparmiare cumulativamente circa 700 miliardi di euro di interessi passivi, perché noi prima emettevamo debito con una moneta debole, la lira, e quando tu emetti debito, quando chiedi un prestito con una moneta debole, una moneta che si svaluterà, chi ti presta i soldi ti presta un tasso di interesse più alto perché deve proteggersi dal rischio che quando gli ridai, gli ridai qualcosa che vale di meno rispetto a quello che ti ha prestato. Quindi quando noi emettevamo debito con la lira, emettevamo titoli di debito a tassi di interesse più alto. L'aver semplicemente emesso titoli di debito pubblico con una moneta più forte, più stabile, che portava dentro di sé un'inflazione più bassa e più stabile come l'euro, automaticamente, senza nulla più considerare, ha fatto sì che i nostri titoli di Stato fossero meno rischiosi e quindi richiedessero un interesse minore. E quando qualcuno è andato a calcolare questa somma, si arriva a cifre vicine a quelle che vi ho detto, 700 miliardi di euro, non in un singolo anno sarebbe il 50% del P, ma cumulato sui 12 anni, su cui qualcuno li ha calcolati, parliamo di quel tipo di somma. Una classe dirigente che sa quello che fa, prende quei soldi e li destina a risolvere i due grandi problemi che noi abbiamo da metà degli anni 90 e che abbiamo tuttora, che sono il nostro debito pubblico, che è il secondo più alto del mondo, se esplodiamo la Grecia, se volete ricordare la Grecia, che come sapete è un paese che ha fatto default, parziale sul suo debito, ma se la includiamo siamo il terzo debito pubblico del mondo. Quindi una classe dirigente responsabile prende quei soldi o li destina a risolvere il problema del debito se fossero stati tutti messi lì, ma adesso avremo un debito pubblico quasi la metà di quello che abbiamo, oppure li destina a risolvere il problema della produttività, perché questo paese, se voi guardate negli ultimi 20 anni, è l'unico paese nel mondo occidentale la cui produttività totale dei fattori, vuole dire come funziona il paese, come capitale e lavoro si combinano per far funzionare bene il paese, è l'unico paese in cui questa produttività al meglio rimane stabile, ma in alcuni casi sceglie. Cioè quindi vuol dire che ci servono investimenti per far funzionare il paese, che non sono per forza investimenti pubblici genericamente definiti che pure abbiamo affrontato in un giro di stabilità, significa semplicemente riuscire ad avere una capacità di spesa per risolvere i nodi che in questo paese non funzionano più. Fare riforme strutturali con dei soldi a disposizione è meglio. Uno dei nodi del nostro paese è la mancanza di concorrenza in tanti settori, prendiamo i taxi, prendiamo le farmacie, prendiamo le professioni, eccetera. Un conto è riformare questi settori in modo brusco, senza soldi. Bisogna affrontare costi politici elevati. Un conto è farlo, ad esempio, con una dote, come hanno fatto in Irlanda, ad esempio, una dote finanziaria che ti consente di attenuare gli effetti della transazione. Perché se io vado a un tassista, è un settore molto chiuso per i tassi, ma se io vado a un tassista e dico domani mattina la tua licenza, per cui hai speso 200.000 euro, per cui ti sei indebitato, eccetera, vale zero, faccio una cosa utile, nel senso che è utile liberalizzare il settore, ma sicuramente è un tanto per il tassista, che vede un investimento a zerarsi in pochi istanti. È solo un esempio per dire che se io riesco a fare quella cosa, parallelamente, riuscendo ad attutire gli effetti della transizione, faccio riforme strutturali in maniera da avere un consenso politico sicuramente maggiore. Questo era per dire che quei 700 miliardi risparmiati, con il semplice ingresso nell'euro, lungo 16 anni di tempo, potevano essere usati o per abbattere il debito o per finanziare le riforme che da 20 anni, ma se vogliamo da 40 anni, perché nei due decenni precedenti ci compravamo la crescita con le droghe, svalutazione, inflazione del debito pubblico, per risolvere i problemi che bloccano, che mettono la sabbia nel motore italiano. Le classi dirigenti di quest'ultimo ventennio, cosiddetta seconda repubblica, non hanno fatto nessuna delle due cose, hanno utilizzato quei soldi per aumentare la spesa pubblica corrente. E io ritengo, io metto su banco degli imputati, assieme alle classi dirigenti degli anni 70 e 80, anche alle classi dirigenti degli anni 90, anche qualora fossero un classi dirigenti di espressione del partito politico a quale sono iscritto. Un'incursione, ma dopo ne parliamo, si parla molto in questi giorni di pensioni, c'è stata questa bufana, trovo c'è la reversibilità, insomma ce ne saranno altre di bufana effettivamente, perché nessuno ricorda che il motivo per cui la riforma Fornero è stata approvata nel 2012, una riforma dura, una riforma importante, una riforma con degli errori purtroppo importanti, come quello sui esodati, al quale si sta provando con sette salvaguardie a rimediare, ma una riforma così dura, nel senso che da oggi a domani io innalzo l'età pensionabile, non dall'oggi a domani, in modo graduale, ma non così graduale, l'età pensionabile non è stata fatta perché al governo c'erano, perché non c'eravamo noi, c'era un branco di sadici affamatori di vecchietti, è stata fatta perché nel 1973, una bella mattina, il Parlamento all'unanimità, maggioranza e opposizione, vota, stava votando un decreto legislativo, una norma secondo cui da quel momento in poi le donne con figli nel pubblico impiego potevano andare in pensione dopo 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi, gli altri potevano andare in pensione dopo 20 anni di contributi e nel comparto di tutti i locali dopo 25. Si fa questo bel regalo all'unanimità, si sfasciano i conti pensionistici, nel 92, mi è capitato un paio di settimane fa in televisione di discutere con Abete e con Ferrati che dicevano no, noi siamo quelli che l'abbiamo abolita, no, nel 92 voi siete quelli che hanno evitato che ce ne fossero di nuovi, ma noi tuttora paghiamo 9 miliardi di euro per quelle cosiddette debbi pensioni, 9 miliardi all'anno per pagare la pensione, il mio professore di educazione artistica a liceo ha pensione all'età che io ho adesso, e noi paghiamo 9 miliardi per pagare, spendiamo una volta per questa gente qui. La riforma Fornero, sto banalizzando troppo forse, è stata fatta anche perché furono fatti quei tipi di errori in passato, all'unanimità fu votato in Parlamento. Prima di entrare qui su Twitter, parlando di questo, qualcuno mi diceva non possiamo pagare noi gli errori del passato, beh, purtroppo sarebbe bello un mondo in cui si può far finta di ignorare gli errori che le classi dirigenti del passato hanno fatto, non è un mondo nel cui viviamo. Io ho imparato facendo l'amministratore a Ferrara che ci sono due gradi diversi di inerzia degli errori, nel mondo privato e nel mondo pubblico, nel senso nella sfera privata. Quando si fanno errori nella nostra vita privata, tutti credo li facciamo, io tantissimi, c'è un'inerzia in questi errori, cioè puoi, diciamo, fai una cosa sbagliata, te la porti dietro per un po', ma puoi rimediare. Non a zero costi, tutti gli errori hanno costi, ma puoi rimediare. Ma quando fai un errore dal punto di vista pubblico, maneggiando soldi pubblici, ottenendo decisioni pubbliche, quell'inerzia è molto maggiore. Quando tu sfasci i conti pubblici in quel modo, le conseguenze durano decenni. Allora, è chiaro che sarebbe bello far finta di niente rimuovere il problema o essere affascinati da qualche teoria, dopo ne parliamo, non vera, non giusta, su come funziona il debito pubblico, come funziona la moneta, che semplicemente non è vera. Purtroppo una classe di dirigenti responsabili che a quell'epoca non è neanche nata, prende atto della situazione e prova a risolvere il problema, non rimuove il problema. La rimozione è un meccanismo che funziona in psicologia, forse, non in politica. Tutto questo purtroppo è la premessa, quindi stringo davvero tutto. Allora, che cosa fa il governo Renzi dal 2014 poi a questa situazione di ineredità? E per la prima volta dice che l'Italia non si mette a posto in sei mesi e non si mette a posto guardando alla prossima elezione, si mette a posto strutturando un programma pluriannale di intervento sui problemi. E quali erano questi problemi? Noi ne abbiamo individuati almeno quattro. Primo, questo è un paese in cui chi le paga, paga troppe tasse. Sul chi le paga, poi se volete parliamo di quella polemica sull'evasione. Voi sapete che l'anno scorso è stato l'anno in cui negli ultimi 13 anni si è recuperato più gettito d'evasione fiscale 14,8 miliardi. Stranamente ha coinciso con il punto più alto della polemica su cui si accusava il governo di siccome si innalzava il famoso limite dei contanti su cui se volete parliamo dopo il governo non gliene frega nulla di devasione fiscale. E' stato l'anno record di recupero d'evasione fiscale. Ed è stato l'anno in cui con i provvedimenti attuativi della delega fiscale si è anche sistemato strutturalmente il rapporto fra fisco e contribuente. Però questo è un problema in un paese in cui chi le paga le tasse le paga troppe. La Banca Mondiale ogni anno pubblica una statistica si chiama Total Tax Rate dice ma scusate sommando tutte le tasse locali, nazionali, regionali sul lavoro, sul patrimonio sul capitale dati 100 euro di profitti un'impresa quanto ne vede assentarsi? Allora questa statistica che è Total Tax Rate quindi i tassi totali in Italia nel 2013 era 65,8 cioè chiunque di noi fa imprese semmai dovesse fare imprese 100 euro di utile 65,8 centesimi da essere lo Stato che non sempre li spende nel modo opportuno. Da poco è uscita la statistica sul 2014 quindi attenzione agli anni riferita al 14 quindi che non prende molti dei provvedimenti di cui adesso vi accendo e questo indice scende di un po' scende a 64,8 se non ricordo male però vuol dire che su 100 euro di utili se ne pagano due terzi di passi tra Stato antilocali eccetera allora un paese che è messo in questo modo possiamo parlare di innovazione di crescita di investimento un paese in cui su 100 euro di utili ne paghi 65, 66 ma più di 60 o più di 50 probabilmente al potere pubblico che non li spende forse in modo opportuno non è un paese che li prenderà ma è una crescita è un paese in cui un operario metallomeccanico di terzo livello costa 2200 euro al datore di lavoro e ne prende in tasca la metà è un paese la cui domanda interna difficilmente ripartirà quindi il cuneo fiscale contributivo fra costo del lavoratore all'impresa e spusta paga netta un paese che ha queste differenze non li prenderà mai in crescita ergo le tasse in questo paese vanno abbassate senza se e senza ma possibilmente come crediamo di aver fatto abbassare le tasse su chi ne ha maggiormente bisogno elenco i problemi poi le misure poi chiudo le tasse quindi se ne pagano troppo due è un paese in cui gli investimenti sono fermi da troppo fermi quando va bene in realtà se voi guardate gli investimenti degli enti locali in realtà di questo vi dovete parlare dal 2004 al 2014 si dimezzano ripartono solo dall'anno scorso non a caso nel 2004 gli investimenti dei comuni erano 20 miliardi più o meno all'anno nel 2014 erano 10 miliardi voi pensate che gli investimenti totali del settore pubblico sono più o meno 32 miliardi insomma quindi gran parte degli investimenti in realtà vengono fatti dagli enti locali per quello è il lato dei comuni poi ci sono regioni e aree vaste quindi la fetta più grande degli investimenti pubblici di questo paese si dimezza dal 2004 al 2014 e gli investimenti pubblici degli enti locali non sono solo quelli che rendono le nostre città più belle sono quelle che traenano attività edilizia non c'è mai stata ripresa economica senza una ripresa sostenuta dell'attività edilizia e di lavori pubblici anche di importo piccolo questo è un paese che gli investimenti sono fermi o scendono da troppo pubblici e privati e non si riprende il paese senza la ripresa degli investimenti perché gli investimenti non sono solo una componente di domanda cioè fanno crescere il bil gli investimenti aumentano anche lo stock di capitale di un paese quindi fanno un effetto di breve periodo ma fanno anche un effetto di lungo periodo perché aumentano le possibilità produttive di un paese il terzo problema è un paese che fa troppo poco per chi è meno fortunato abbiamo chiamato l'area del bisogno per chi ha bisogno di aiuto per chi rimane indietro e basta facciamo che mi fermo tre poi dopo scendo sugli antilocali quindi la legge di stabilità del 2016 abbiamo voluto indirizzarla su questi tre macro problemi si pagano troppe tasse è un paese in cui si fanno pochi investimenti in cui la produttività in generale è bassa ricordate quello che dicevo prima è un paese in cui si fa troppo poco per chi non ce l'ha fatto e per chi deve essere aiutato che cosa facciamo però per ciascuna di queste tre cose io non vi dico solo quello che abbiamo fatto nella legge di stabilità del 2016 se no mi rimangerei quello che vi ho detto prima cioè che questi problemi non si risolvono anno per anno non si risolvono Tremonti una volta disse una frase tra le varie una che mette ancora i bigri a pensarci fece una legge di stabilità e disse l'abbiamo fatta in 80 ore era il 2000 e qualcosa 4, 5 ma che è un vanto fare una legge di stabilità in 80 ore ma noi è da mancio che iniziamo a lavorare su una legge di stabilità dell'anno dopo e comunque non basta una legge di stabilità una legge di stabilità è un pezzo di una strategia chiara e plurinale che serve per rimettere a posto un paese sfasciato come è stato sfasciato questo quindi per ciascuno di questi punti io non vi dico soltanto la tappa di quest'anno io vi dico da dove siamo venuti l'anno scorso e dove andremo nei prossimi anni perché è così che si fa politica economica è così che si prova con mille difficoltà a rimettere a posto da un proprio contributo chi piccolo chi grande per rimettere a posto un paese allora le tasse sulle tasse non si è cominciati quest'anno la strategia di riduzione delle tasse comincia l'anno scorso con la legge di stabilità 2015 in cui si fanno due cose fondamentali gli 80 euro su cui si può ridere finché si vuole e noi abbiamo dovuto sopportare sbeffeggiamenti sugli 80 euro e questo è un paese un po' strano gli 80 euro vengono decisi a marzo del 2014 vengono erogati a giugno del 2014 come temporanei quindi un consumatore si dà una roba temporanea difficilmente si fide e dice la leve rispetto solo con la legge di stabilità 2015 quindi a dicembre 2014 dice guarda sono permanenti sapete soltanto coloro che guadagnano fra 8.000 e 26.000 euro l'ordine circa 10 milioni di italiani 10 miliardi di euro lo sto con la misura quindi a giugno gli italiani cominciano a avere l'ingusta paga e a dicembre del 2015 del 2014 scusate e si dice che sono temporane e permanenti a maggio si comincia a dire che gli 80 euro non funzionano perché il consumo non ripartono cioè prima che venissero erogati fantastico Repubblica titolò non funzionano gli 80 euro perché i consumi sono fermi tra l'altro erano i consumi del trimestre precedente perché anche lì la statistica non è che escono dati oggi sono i dati di stamattina sono i dati del trimestre o dell'anno o volte precedente quindi fotografando i consumi 2013 si disse che la misura che entrava in vigore giugno 2014 non funzionava un paese un po' staranno questo qui una volta che è entrato in vigore ovviamente gli italiani che cosa hanno fatto intanto finché non mi si dice che sono permanenti e magari finché non mi assicuri che poi non mi alzi le tasse per finanziare 80 euro io cavolo che mi rispendo secondo ho talmente decumulato i miei risparmi in questi anni perché l'Italia viene da sei anni molto complicati i cui redditi sono tornati all'inizio degli anni 90 come livello quindi ho dovuto intaccare i miei risparmi questo è un paese che è una consistente mole di risparmi privati ma li ho intaccati siamo un popolo paziente siamo un popolo impaziente per tante caratteristiche ma siamo un popolo attento al risparmio quindi abbiamo ricostruito i nostri risparmi prima di cominciare a spendere gli 80 euro la politica economica purtroppo è così ci vuole tempo non siamo nel mondo delle farole fatte queste due cose gli italiani cominciano a spendersi gli 80 euro e a maggio la Banca d'Italia spero che si voglia accusare di renzismo di cosa tutto altro non credete certifica che il 91% di quegli 80 euro sono stati spesi in consumi e se voi guardate i dati dell'Istat pubblicati settimana scorsa sul PIL 2015 ti dicono che la spesa delle famiglie italiane per la prima volta dopo un sacco di tempo aumenta di quasi il 1% i consumi interni di questo paese la domanda interna stagnava da troppo tempo ripattano i consumi delle famiglie per cosa se non per fatto che tu hai messo a 10 milioni di italiani 10 miliardi di euro in tasca a coloro che guadagnavano di meno diciamo anche se non sono quelli sotto gli 8 mila euro non ancora per lo meno questo si era fatto nella legge di stabilità scorsa e si era fatta anche un'altra cosa vado veloce l'IRAP che è una composta molto strana è un'imposta che gli imprenditori pagano anche quando perdono è un'imposta strana necessaria perché ci finanzia in parte il sistema sanitario su cui anche lì sarebbe interessante dire qualcosa nel senso è un paese in cui tu dai un miliardo in più alla sanità e ti dicono che viene tagliati tre complicato da spiegare ma dopo se volete ne parliamo l'IRAP è un'imposta strana perché gli imprenditori la pagano anche quando l'azienda non è inutile nel senso registra una perdita non un profitto e allora che facciamo noi l'anno scorso questa tutta roba già fatta diciamo sapete cosa c'è tu l'IRAP sul costo del lavoro a tempo indeterminato non la paghi più direbbe un'imposta che ti colpisce i fattori produttivi il capitale del lavoro sul lavoro se è a tempo indeterminato non la paghi più sono circa 6 miliardi l'anno meno di tasse per le imprese c'è stato il caso di quell'imprenditore credo siciliano che con i soldi che ha risparmiato dell'IRAP ha aumentato in alcuni casi raddoppiato lo stipendio dei suoi dipendenti forse vi ricordate qualche minuto di celebrità mediatica che poi si è passato a un ben altro a Petruia questa è tutta roba dell'anno scorso permanente quest'anno quella è la puntata la seconda puntata di questa roba qui delle tasse che devono scendere l'intervento sull'imposta sulla prima casa e si dice non dovete iniziare dalla prima casa non si è iniziato la prima casa si è iniziato l'anno scorso con gli 80 euro e con l'IRAP e si prosegue l'anno prossimo con quello che dirò fra un atto però perché si è fatto l'intervento sulla prima casa guardate non avete di fronte uno che neanche manda l'assessore il bilancio impazziva per il fatto di eliminare la tassa sulla prima casa che esiste in tutto il mondo esiste tranne in un paio di paesi africani e asiatici qual è il punto? si può pensare ovviamente come la si vuole vi assicuro che è stata un'alettica il punto è questo tagliare le tasse ha effetti di offerta diversi perché è chiaro che tagliare le tasse sulla casa è diverso che tagliare le tasse sul lavoro perché se tu mi tagli le tasse sul lavoro io riesco a offrirmi di più sul mercato del lavoro o se io imprenditore riesco a domandare più il lavoro se mi tagli le tasse sulla casa non è che compro più case però gli effetti di domanda sono gli stessi cioè comunque rimetti dei soldi in tasca alla gente in media 200 euro all'anno per famiglia sono 3 miliardi e 7 in tutto e se hai 3 miliardi e 7 da spendere se li butti sul lavoro non te ne accorgi neanche ma lo tagli le tasse sul lavoro e sul profilo devi parlare di importi a due cifre con 3 miliardi e 7 non ci fai nulla dall'altra parte scegliere di eliminare l'imposta sulla prima casa ha avuto innanzitutto il segnale di dire io ti rimetto quei 200 euro in tasca e da quel punto di vista tagliare le tasse sono tutte uguali nel senso se tagli quelle sul lavoro sul capitale sui capelli biondi sui capelli sempre soldi in tasca rimetti sono diversi gli effetti di offerta certo un conto è tagliare le tasse sul lavoro cosa che preferiamo perché su 50 miliardi di tagli di tasse complessivi del 2018 47 sono sul lavoro 3 sono sulla prima casa ma qual è stato il punto della prima casa sono dei sindaci e amministratori se ti togli quella sciarpa mi fai il favore guardate cosa devo fare questo perdonate ma ho un difetto che forse alcuni conoscono sono juventino ma di quelli anche abbastanza che succede quindi scherzo ovviamente voglio essere lapidato lo dico lo dico da ex amministratore ma l'imposta sulla prima casa dal 2008 in poi è stata roba da psichiatri non è stata roba da amministratori non è stata roba non è stata roba che è stata roba che ha cambiato nome modalità di funzionamento decidi volte in sei anni ma non si capiva ma ve lo ricordate che cos'era e una volta il gentito è tutto è statale poi è parte comunale poi è metà statale poi i mobili comunali poi va lì poi va basta Presidente ha voluto prima persona mette una parola di chiarezza non se ne può più quella tasca non si paga più punto dice ma solo in Italia d'accordo sono in Italia però sono 3 miliardi e 7 di soldi che rimangono in tasca ai cittadini e non vanno allo Stato perché i comuni sono ovviamente integralmente ricorsati sulla base dell'accertato 2015 togliamo anche la tasca sugli inquilini perché si pagava anche la tasca sugli inquilini il comune poteva decidere far pagare dal 10 al 30% dell'importo anche su inquilini anche quella se ne va poi se ne vanno altre due tasse che nella narrazione sono chiamate imu ma non sono tasse sul patrimonio sono tasse su chi lavora se ne va l'imu agricola sui terreni agricoli non per chi ha il terreno e ha la piscina sopra se ne vanno l'imu agricola per imprenditori agricoli coltivatori diretti e le società assimilate cioè chi usa la terra per produrre compresa la roba dei terreni montane su cui un po' di confusione fu fatta l'anno scorso va via tutto come posta lì va via l'imu sui imbullonati dice che sono gli imbullonati lo sanno gli amministratori ma una roba un po' strana è che in questo paese imbullonati sono le presse attaccate al terreno con i bulloni in un capannone di impresa ora che in questo paese io imprenditore che ho un capannone pago l'imu sul capannone ci sta perché l'imu colpisce gli immobili il capannone è un immobile è vero in un mondo ideale quell'immobile mi serve per produrre però ambiate pazienza l'immobile ma che io mi debba pagare l'imu sui macchinari dentro al capannone è come se io a casa mia la tasi la pagassi non solo sull'immobile ma anche sui mobili la roba lì costa 500 milioni anche queste rimborsate ai comuni ma l'abbiamo tolta perché è un po' complicato spiegare che io pago l'imu non solo come imprenditore non solo sul capannone ma anche quello che ci sta dentro se ne va pure quello se ne va l'ira agricola l'ira non solo sul lavoro a tempo determinato che in agricoltura come sapete è una fattispecie strana se ne va l'ira agricola per tutti gli imprenditori agricoli il canonerai si riduce da 113 a 100 euro qui posso diventare un po' stridevole perché quando sento qualcuno che prende posizione e dice me la fai pagare in bolletta non è giusto perché io prima non la pagavo adesso pago 100 euro e poi sento lo stesso politico tuonare contro l'evasione fiscale c'è qualcosa che non mi torna perché se tu prima non pagavi un canonerai almeno a sole fiscale punto adesso non puoi evanderlo e te lo abbiamo ridotto il 13% un po' di meno da 113 al 100 euro e lì è una riduzione di tassa perché formalmente lo sapete il canonerai è equiparato a un tributo e poi continua la decontribuzione che ve lo sono scordato di dire nel 2014 la decontribuzione quella che facevamo nel 2014 se tu assumi a tempo indeterminato il tuo imprenditore per tre anni non paghi i contributi per lo meno fino a 8000 euro per il laboratorio non paghi i contributi dicevano che era per quello che l'occupazione saliva avete visto altro ieri il dato dell'occupazione di gennaio sale nonostante la decontribuzione sia stata ridotta a gennaio perché in legge di stabilità del 2016 riprologhiamo la decontribuzione ma cominciando a farla calare perché è vero la decontribuzione la decontribuzione può essere interpretata come una droga oppure questa stasera prendo un imprenditore rischia di assumere soltanto perché non gli fai pagare i contributi allora per questo la droga gli devi piano piano tornare ed è quello che stiamo facendo la misura quest'anno è per due anni cioè prendiamoci chi ha assunto l'anno scorso per tre anni ha le sono e lo contributivo fino a 8000 euro chi assume quest'anno ce l'ha per due anni fino a 3200 250 se non lo ricordo ma euro sono i contributi però pure quella è una riduzione di tasse una riduzione appunto di alcuni contributi questo è il pacchetto per risolvere il primo problema l'anno prossimo come sapete Ires da 27 passa sui profitti delle imprese da 27 a 24 e mezzo da 27 e mezzo scusate a 24 e nel 2018 ritorniamo sull'Irtef chissà che non ci sia modo anche gli 80 euro formalmente sono spesa sono un trasferimento non sono riduzioni di tasse formalmente chissà che quella non sia l'occasione mentre si fa qualcos'altro anche per colmare questa anomalia secondo buone del problema gli investimenti che si fa per far risolvere gli investimenti e che si è fatto l'anno scorso stavolta invertiamo che si fa quest'anno nel 2016 si fanno fondamentalmente tre cose gli investimenti non sono solo investimenti pubblici gli investimenti di un paese sono anche gli investimenti degli imprenditori quindi investimenti privati e gli investimenti esteri cioè imprese estere che vengono a investire in Italia questo è bene ricordarlo però su tutte e tre facciamo qualcosa quelli pubblici ne parlo poco perché immagino che fra poco non parliamo di enti locali lo dirò me cioè sui enti pubblici noi l'anno scorso il patto di stabilità interno l'abbiamo abbattuto del 60% per i comuni e abbiamo cambiato il modo in cui si riparte l'obiettivo questo sempre legge di stabilità 2015 l'anno scorso la puntata precedente l'impatto di stabilità abbiamo cominciato a toglierlo abbattendolo del 60% una cosa che si riuscì al 60% come dire prende una bella botta e in più dici io prima fatto 100 l'obiettivo lo ripartivo fra i comuni con un modo un pochino strano cioè una percentuale della spesa corrente a noi non ci piaceva questo modo di assegnare ad ogni comune il suo obiettivo di patto e l'abbiamo cambiato l'anno scorso l'abbiamo reso un po' più meritocratico se io do un obiettivo più basso in senso di stringente meno stringente ai comuni che sono maggiormente in grado di spendere ai comuni che hanno tagliato di più la spesa corrente ai comuni che hanno più risorse disponibili questo fu l'intervento dell'anno scorso dice che risultati ha avuto questo è un paese che fa un po' di fatica a confrontarsi con i risultati delle cose l'intervento dell'anno scorso i risultati che abbiamo scoperti settimana scorsa qualcuno ha letto l'e-news del Presidente lunedì l'ha visto nel post-scritto è la prima volta dal 2004 gli investimenti comunali ripartono non del 1 non del 2 non del 3 del 15,3% in più sono un miliardo e 7 in più gli investimenti non so quindi più 10 miliardi sono circa 12 grazie alla misura dell'anno scorso ma alla misura di quest'anno il secondo tempo perché le cose si fanno così se lo vuoi fare bene prima un primo tempo poi un secondo tempo in un paese così servono 10 tempi almeno per mettere a posto le cose qual è la misura della legge di ristabilità 2016? il patto di ristabilità gli hai dato una botta l'anno scorso stavolta lo togli noi abbiamo eliminato il patto di ristabilità interno per i comuni che non è giusto non sono fra quelli che lo criminalizza troppo l'ho studiato da ogni punto di vista anche per il mestiere che faccio è uno strumento che è stato io lo definisco efficace ma non efficiente nel senso che il suo lavoro l'ha fatto per 17 anni l'ha tenuto sotto controllo i conti pubblici ma l'ha fatto a costi troppo elevati quindi è uno strumento efficace ma inefficiente spesso molti amministratori lo usavano come alibi come alibi davano la colpa di tutto al patto però è uno strumento inefficiente aveva troppi problemi e noi l'abbiamo tolto io non vi dico la ex amministratore la gioia di scrivere il comma 710 e reggere l'istabilità a valere il primo gennaio 2016 cessano tutte le disposizioni concernenti la disciplina nel patto di stabilità interna dove dice togli il patto e lasci tutti liberi no l'abbiamo già vissuta la stagione di tutti liberi quella degli anni 80 e guardate dove ci ha portato noi abbiamo messo una regola diversa facciamo che ne parlo se c'è bisogno di approfondire si chiama regola del pareggio fondamentalmente dice tre cose io non ti chiedo più di quello che è hai incassato perché il patto di stabilità gli amministratori lo sanno aveva un obiettivo positivo vuol dire che i comuni dovevano accumulare entrate finali superiori alle spese finali in aggregato erano circa un miliardo e sette l'ultimo anno e questi sono di queste sangue che dai comuni andava allo Stato erano risorse che andavano a ridurre l'indebitamento netto dello Stato ma sulla pelle dei comuni adesso l'obiettivo si chiama regola del pareggio zero non è più qualcosa vuol dire che tu comune quello che hai come entrate finale è quello che puoi spendere come entrate finale voi sapete c'è l'equilibrio di parte corrente e quindi questo di per sé dà una botta in più investimenti comunali poi la cassa non più vincolata non è più soggetta a vincolo il fatto ristabilità interna aveva la competenza mista corretto la competenza giuridica sulla parte corrente cassa sulla parte di conto capitale noi adesso abbiamo la competenza finanziaria rafforzata su tutti e due i compatti quindi un comune non deve più preoccuparsi quando hai soldi in cassa deve pagare un residuo passivo non c'è più nessuno che viene a rompere le scatole su quello perché l'erogazione di cassa non è più soggetta a vincolo di finanza l'erogazione di cassa non è più soggetta a vincoli finanziaria ciò da pagare ancora un saldo in una scuola che è un residuo passivo e ciò i soldi li paga terzo elemento di novità ve la dico prima difficile difficile non certo per i detti ai lavori e poi è più semplice l'inclusione del fondo plurinale vincolato tra le componenti di entrate di spesa Alessandro vuol dire che col vecchio patto di stabilità se la regione Mila Romagna pagava il comune di Zola un milione di euro a dicembre per fare una scuola da 4 sal di 250 mila euro l'uno uno per ogni anno perché gli investimenti per definizione si fanno nel corso del tempo c'era un problema sul patto perché a dicembre mi arrivava un milione e se ero fortunato non certo dicembre diciamo a settembre mi arrivava un milione se ero fortunato facevo il primo sal da 250 e quindi quell'anno c'era un surplus di patto enorme di cui spesso non me ne facevo nulla lo sapete di quanto i comuni italiani in media hanno più che rispettato il patto in questi anni di un miliardo e sette all'anno proprio perché il meccanismo della competenza mista con il fatto che la cassa è molto più volatile i comuni quelli sani poi c'erano quelli che se ne fregavano non lo rispettavano e ancora tutt'oggi ci vengono a chiedere sai cos'è le sanzioni facciamo finta di niente hanno detto no bello cambiate la musica cambiate la musica dopo se non avete parlato anche di quello ma i comuni sani il primo anno avevano questa eccedenza di patto per colpa di nessuno forse per colpa se vuoi della regione che ha pagato date ma magari era un progetto che doveva essere erogato a settembre e quindi mi trovavo un surplus di patto il patto regionale verticale un primo orizzontale spesso in mia Romagna ha funzionato bene solo in mia Romagna però e quindi gli anni dopo da primo gennaio in poi quei 250.000 euro di sal non mi erano coperti e quindi quelli sforavano il patto perlomeno non avevano una corrispondente entrata ecco perché i comuni smettevano di erogare ed ecco in parte come sono formati i debiti dell'APA di commerciare dell'APA noi che facciamo con quella roba del fondo per andare vincolato che confiscono sicuramente i ragionieri gli assessori e i sindaci magari non il cittadino pubblico quel problema non riserviamo se tu hai avuto un milione di euro per fare una scuola da 4 sal da 250 tranquillo tutti gli anni che fai i sal quello non ti impatta sulla regola perché l'entrata l'hai già avuta quindi ti faccio considerare anche quando paghi l'ultimo sal da 250 quello è coperto dal milione che ti era entrato 4 anni prima quindi non devi preoccuparti dell'impatto sulla finanza pubblica perché rimetto il fondo finale vincolato in entrata in spesa e in modo che l'effetto è zero qualche esperto ci dice l'hai fatto solo per il 2016 sì il 17 marzo probabilmente il consiglio dei ministri prossimamente porterà in approvazione un disegno di legge che cambiando la legge 243 del 2012 renderà questa cosa permanente gli investimenti privati e questo sono investimenti pubblici quindi i dati di questi giorni più 15,3% sono la misura del primo tempo questa è la misura del secondo tempo che state vedendo adesso facendo i bilanci di cui i dati verranno fuori fra un anno se siamo fortunati però questo è il cammino dove stiamo andando investimenti privati non è vero che gli investimenti sono solo pubblici però questa cosa del pubblico ricordatela perché io sento spesso i sindacati di non aver fatto nulla per gli investimenti e sento pochi rispondere a come abbiamo buttato nel cestino il patto di stabilità interno i risultati sono questi finora la manovra del primo tempo però gli investimenti sono anche privati che cosa facciamo in stabilità 2016 per gli investimenti privati ci dicono copiate quello che ha fatto Emmanuel Macron ministro dell'economia francese molto giovane conosciuto 36 anni l'ha visto non abbiamo compiato lui abbiamo fatto una cosa un po' diversa abbiamo detto se un'impresa deve comprarsi un macchinario che gli serve per la produzione lo paga 100 per il fisco è come se l'avesse pagato 140 quindi per quanto riguarda le tasse che ci devi pagare sopra ne paghi di meno perché ai fini fiscali è la misura del super ammortamento a fini fiscali è come se avessi speso 140 quindi a fini fiscali è un utile più basso e quindi paghi meno tasse ma in realtà l'hai pagato 100 e quindi questa misura dei fatti è uno stimolo a comprare macchinari strumentali del processo produttivo funzionerà o non funzionerà ci aspettiamo un impatto sui investimenti non banale vediamo è operativa dal 16 ottobre quindi dal giorno dopo la presentazione della legge di stabilità vediamo e la terza cosa ci sono anche gli investimenti dall'estero perché i soldi investiti da esteri in Italia non fanno schifo se creano lavoro e creano occupazione e su questo l'impegno personale del Presidente credetemi è massimo non vuol dire solo andare in giro a chiedere soldi vuol dire promuovere il nostro paese all'estero vuol dire cambiare come funziona il paese gli investitori non vengono guardate ve lo dice un convinto sostenitore del Jobs Act ma non è che non venivano perché c'era l'articolo 18 non venivano perché ci vuole 7 anni 6 mesi a recuperare un credito in questo paese non venivano per il sistema fiscale non venivano per la pubblica amministrazione sono tutti i gangli sui quali stiamo intervenendo quindi devi far venire risolvendo quei problemi ma devi anche farli venire promuovendo il tuo paese il fatto che Apple e Cisco che anche nella narrazione ai bambini sono le due fra i maggiori aziende mondiali di nuove tecnologie Apple dice Apple e si immagina Steve Jobs che vengano a investire a Scampia poi dice ma è uno stage uno stage tu formi 600 sviluppatori di app a Scampia a Napoli non vieni a rompere le scatole se uno stage quelli sono 600 posti di lavoro attuali e futuri a Scampia in mezzo a Gomorra viene Steve Jobs ma è una roba da poco non lo so ditelo voi perché a Scampia tra l'altro c'è uno degli istituti tecnici superiori e migliori d'Italia dice come? sì allora sono questi tre pezzi che si fanno non è che sono venuti perché sono venuti sono venuti dice ma hanno fatto un accordo col fisco sì come esistono da 25 anni né una lira in più né una lira in meno non c'è stato nessuno scambio comunque sia ragazzi sono miliardi di investimenti di Apple e Cisco e non di un'azienda che fa bottiglie d'acqua naturale senza nulla togliere d'acqua naturale ma sono tutto quello che per anni ci siamo detti innovation tecnologie bla 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 a Scampiana non lo so se è una cosa su cui riflettere o meno terzo punto e chiudo poi sugli enti locali se volete discutiamo anche se in realtà è quello che volevo dirvi l'area non è bisogno fatto salvo tutto quanto detto in precedenza cioè questo è un paese che deve cominciare ad dare maggiori opportunità chi se ne merita un'incursione in un territorio strano noi due settimane fa abbiamo bandito quasi mille posti da ricercatore nuovo tipo universitario e le abbiamo cominciate a dare a università che se lo meritano cioè quelle che sono migliori nel fare le due cose che l'università fa ricerca e le dati perché la nostra idea e se parliamo di costi standard dei comuni fenomalti non ve lo dico è che le risorse in questo paese non devono essere date a pioggia devono essere date a chi se ne merita e abbiamo cominciato non da università ma c'è anche l'università ma è possibile che dal mondo accademico tanti simi colleghi arrivi il lamento non è giusto andiamo dati un po' a tutti avete sbagliato persone noi non siamo quelli che diamo un po' a tutti noi diamo le robe a chi se ne merita e se qualcuno non se ne merita ed è abituato ad avere lo stesso farà bene a cercarsi un nuovo lavoro è chiaro è così che funziona adesso posso io ricevere soldi come università che non produco ricerca non produco didattica faccio solo do solo il titolo di professore a qualcuno che se lo spende in modi diversi a locali è questa l'università italiana o serve per formare la classe dirigente del futuro allora noi i soldi li diamo a quelli è pazzesco quello che sta succedendo dice ma no dovete dare un po' a tutti ciò nonostante non siamo nella giungla chi non ce la fa ma chi non ce la fa penso che chi non arriva a fine mese deve essere aiutato e allora l'area del bisogno vi dico solo due provvedimenti l'abbiamo coperta così uno è un programma al quale tengo molto non ho non ne sono toccato personalmente grazie a Dio ma tengo molto in generale che è il programma dopo di noi però dopo di noi è stato fatto per i disabili voi sapete che negli anni 70 l'età media di un disabile era 35 anni adesso l'età media è 61 anni non sono appassionato di bioetica mi sono tenuto distante da anche discussioni recenti ma c'è chi può considerare una bella notizia una brutta notizia io la considero una bella notizia che un disabile vive più a lungo rispetto all'opinione di tutti ma se il disabile vive più a lungo non c'ha più i genitori presumibilmente a 60 anni che gli stiano dietro e allora abbiamo messo più di 100 milioni di euro in un programma che dice sapete cosa c'è un disabile finché vive o da un assistente sociale che lo cura anche se con l'alzamento dell'età media probabilmente non avrà più i genitori ma questo è un programma da 100 milioni di euro che bastano e magari avanzano anche facciamo un altro intervento sulla povertà che ha creato qualche problema che è una legge delega al governo per creare uno strumento unico di lotta alla povertà in questo paese ma non è che crea uno strumento ci mette sopra un miliardo di euro di nuovi soldi siamo onesti 700 milioni nel 2016 un miliardo dal 2017 è a decorrere un miliardo di nuovi soldi per combattere la povertà non li dà ai comuni senza offesa senza offesa dice c'è un problema noi siamo andati a vedere come vengono spesi questa è che la funzione socioassistenziale è soprattutto demandata ai comuni con compiti di programmazione regionale beh tu va a vedere come sono spesi è altra cosa che si faceva poco a dare a vedere vede che si va da una media di 25 euro a testa di spesa in interventi socioassistenziali a una media di 250 euro a testa un giro per l'Italia dici vabbè ricorda quando qui non c'è nulla di male se i 25 euro sono a Barese e i 250 sono a vivo Valenza perché ovviamente la richiesta di interventi socioassistenziali è maggiore presumibilmente in Calabria che non vicino alla Svizzera e invece al Sud si spende un terzo di quello che si spende in Pento allora c'è qualcosa di storto in questo sistema e noi abbiamo detto facciamo una legge delega anzi il contrario prima mettiamo un miliardo in stabilità e poi un mese fa facciamo una legge delega che dice con quel miliardo ci facciamo uno strumento unico di lotta alla povertà senza offesa ma coordinato dal Ministero del Lavoro finalizzato a mantenere i livelli unici delle prestazioni mantenere un'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni per l'intervento socioassistenziale cioè per andare a mitigare questo fatto un po' strano secondo cui si spende da 25 a 250 euro a testa e sono un po' diciamo spero quattro messi male in giro per l'Italia come interventi perché al sud si spende un terzo rispetto al nord facciamo questa roba qui e la notizia per 4-5 giorni non diventa questa perché forse non l'avete neanche mai sentita voi ma diventa che si tagliano le persone le persone di reversibilità mi dice dove sta scritto abbiamo fatto una legge delega per dare un miliardo in più di notte alla povertà per fare per pereguare questi strumenti dove sta scritto in realtà ovviamente non c'era scritto nulla del genere però per meglio lasciar qualcosa che succede succede che noi in quella legge diciamo sentite già che ci siamo ci fate riordinare un po' come funziona il meccanismo perché adesso se io faccio il bandiere o l'autista di di Pum e ho diritto a più prestazioni assistenziali o previdenziali tipo ho la reversibilità di mia moglie l'assegno familiare l'integrazione al minimo vediamo queste tre adesso io queste sono prestazioni che già adesso dipendono da quanto sono ricco o da quanto sono povero ok ma dipendono in tre modi diversi perché una volta si vede il reddito personale una volta si vede il reddito di sé una volta si vede il reddito personale corretto per i figli e per i familiari ma facciamo che se io ho diritto a delle prestazioni previdenziali assistenziali ve la do una sola volta la dichiarazione ad esempio prendo la componente reddituale dell'ISEE lì che è creato l'ISEE non dice la casa no prendiamo la componente reddituale dell'ISEE per tutte e tre le prestazioni così evito di darvi tre patenti diverse di quanto sono povero questo c'è scritto là e mai in un paese così abbiamo dovuto perdere 4-5 giorni invece a spiegare che uno mi ha scritto su Twitter che mi deve ammazzare perché gli tagliano la mesità della madre morta ma che paese sta diventando un disegno di legge che faceva di dare un miliardo in più alla povertà e che dice rendiamo la vita più semplice al povero Cristo che invece di presentare tre dichiarazioni ne presenta una certo ne approfittiamo per vedere se c'è qualcuno che non prende qualcosa di non dovuto ma spero che non sia quello il problema perché se qualcuno prende qualcosa di non dovuto lo sta sottraendo a uno che neanche ho bisogno di lui se il problema è quello guardate arrabbiatevi pure ma è esattamente quello che vogliamo fare datemi tre minuti sugli enti locali in modo da far partire la discussione se volete la finanza pubblica locale va rifatta va rifatta tutta perché è un settore su cui si è fatta troppa confusione negli ultimi anni anche lì abbiamo un programma plurinale in parte l'avete visto le regole innanzitutto e quindi patto di stabilità abbiamo già detto riorganizziamo le fusioni insomma in un territorio che sa cosa vuol dire o vicino un territorio che sa cosa vuol dire abbiamo raddoppiato i soldi per le fusioni spendo 30 secondi su questo prima gli incentivi alle fusioni Palazzo Chigi riceviamo ormai ogni giorno lettere di comuni che non vogliono fondersi dicono no ma piccolo è bello ragazzoni questa volta piccolo è bello intanto non ti obbligo a fonderti però il comune più piccolo in Italia ha 36 abitanti un giorno voglio andare a visitarlo e capire come fanno le elezioni se va a votare la metà alle persone sono 18 persone ma dove vogliamo andare con un 8000 quindi non ti obbligo ma non mi mettere in croce se ti incentivo a fonderti allora prima ti incentivavo a fonderti in un modo secondo me sbagliato qualcuno di Lassamoggia di cui ha beneficiato di cui c'è stata una vivace dialettica non so se poi è venuto il sindaco ah ecco perfetto l'incentivo prima era ci conosciamo solo via telefono che erano lunghe chiacchierate a telefonare l'incentivo prima era profonditi stai 5 anni fuori al patto il comune ha beneficiato giustamente reclamo un diritto me l'hai detto adesso mi fai più o meno andare avanti un po' ed è una posizione sensata infatti sveliamo come è finita la storia per un altro anno per un altro anno per un altro anno per un altro anno fino al 2016 c'è l'esenzione dalla regola diciamo però qual è per un altro anno c'è fino a fine 2016 qual è il punto ed è giusto così intendiamoci perché il comune si era impegnato politicamente non solo con risorse anzi ripeto come sta dicendo Daniele mi si frega da questo punto di vista due anni però qual è il punto torniamo seri si fa così l'incentivo a chi si fonde si dice stai fuori da una regola secondo me la forma più vecchia e efficace di incentivare i comportamenti è dare soldi allora noi in legge di stabilità scriviamo sia per i vecchi perché fa fungo ma non è più il doppio dei soldi sia per i nuovi io ti do il doppio dei soldi di cui ti davo prima cioè prima l'incentivo era prendi i soldi che prendevi nel 2010 il 20% di quelli ti vengono aggiunti ogni anno per 10 anni adesso prendiamo il 40% di quei soldi tradotto se io comune nel 2010 nel 2010 è l'ultimo anno prima di una tempesta perché dal 2011 in poi i trasferimenti ai comuni scendono di 8 miliardi e 3 quindi sono livelli iperstellari io prendo il 40% di quei livelli iperstellari e per 10 anni te lo giungo ai soldi che devi avere ogni anno adesso che la gente lo sta cominciando a capire sono fra quelli che credono che funzioni più questo con un incentivo che non dire fonditi e stai fuori da una regola la regola o vale per tutti o non vale ragione per cui dobbiamo anche smetterla perché io ritengo una vergogna il fatto che in questo paese per tutti gli anni in cui il patto di stabilità è stato vivo almeno una sanzione quella che faceva più male per chi lo violava i soldi è sempre stata annullata ed è sempre stata annullata di nascosto a fine anno questa è una vergogna una vergogna per gli altri comuni che sono fatti il mazzo per rispettare il patto di stabilità e quindi spero come sapete la premessa delle premesse è che chi sta nelle posizioni non decide nulla siamo persone che danno una mano per esempio il consiglio dell'avere idee dell'implementare le idee ma la decisione sulle idee non sta a noi ovviamente ma io spero che questa cosa finisca nel senso se tu violi una regola che vale per tutti tu paghi la sanzione come chiunque altro anche se sei politicamente un comune importante perché se il paese deve cambiare deve cambiare anche da queste cose qui quindi per le fusioni diciamo le incentiviamo non in quel modo salvaguardiamo per un altro anno a chi è stata fatta una promessa ripeto in maniera la parte di scherzi è assolutamente legittima spero che mi direte se la posizione vi soddisfa o meno magari facciamo un ragionamento sulle unioni ecco avete di fronte uno che non crede che le unioni comunali siano uno strumento efficace quindi magari mi direte quello che pensate se volete e chiudo davvero però la cosa secondo me mi tengo di più è un'altra rivoluzione che abbiamo fatto due minuti e mezzo è chiudo dal 1977 i trasferimenti ai comuni erano i decreti stammati stammati era un ministro democristiano negli anni 70 che fa una cosa tipica dell'epoca il debito ma sì non me lo accollo io tu continui a farlo e poi comincio a dare i trasferimenti ai comuni quindi con la finanza derivata tu dici basati su che se scende un marziano sulla terra tu dici ma lo stato è comune quanti soldi deve dare e il marziano ti dice basate su due cose su quanto gli serve e quanti soldi da solo è in grado di dar su dalle tasse cioè quanto gli serve fare il servizio di trasporto scolastico non costa allo stesso modo se devi portare i bambini in pianura o in montagna non costa allo stesso modo se hai tanti bambini o se hai pochi bambini non costa allo stesso modo se hai tante scuole o se hai poche scuole ma all'utenere una strada non costa allo stesso modo se è una strada di montagna o una strada di pianura gli affari generali o i fitti passivi i fitti mori non costano allo stesso modo in una città in cui gli affitti sono 100 e in una città in cui gli affitti sono 20 servizi socio-assistenziali non costano allo stesso modo se sono un sacco di anziani o sono pochi anziani eccetera eccetera cioè andiamo a individuare il fabbisogno standard di quello che i comuni fanno quanto dovrebbe costare un servizio questo è un conto secondo tu quanti soldi hai in un comune cioè in un per cento di addizionale quanto ti tira su da solo senza che ti dia io ma non è la stessa cosa a Milano ma a Crotone perché i redditi non sono gli stessi a Milano e a Crotone le rendite catastali che purtroppo non sono state aggiornate nel formale catastro delle cose che sai quando hai una griglia con 50 salsicce sopra e la griglia è così e la griglia è così perché ogni legge deve fare camera senato camera senato camera senato e se provi a cambiare il senato come si fa con il referendum sei un antidemocratico perché è strana pure questa come cosa e dicono la riforma della costituzione non c'entra con l'economia ah no perché per voi è la stessa cosa farsi venire un'idea approvarla in consiglio dei ministri mandarla al parlamento ed essere l'unico paese al mondo che ha due rambi nel parlamento che fanno la stessa cosa secondo voi fare una legge avanti e indietro in camera e in senato è perdere anni per approvarla prima che possa rispondere al bisogno per cui è nata non è una roba che ha a che fare con l'economia però dicono che far così sia un attacco alla libertà democratica decideranno i cittadini a ottobre con il referendum sia un attacco di libertà democratica in ogni caso le rendite di petto la griglia è corta quindi perché con questo sistema istituzionale finora non puoi mettere sulla griglia 80 salsicce le abbiamo messe 50 la salsiccia è rimasta fuori tra le altre è quella della riforma del catastro però la rendita catastrale non è la stessa a Venezia come a Ragusa e quindi un 1% di IMU non tira sui stessi soldi a Venezia come a Ragusa allora il marziano che scende sulla terra dice beh tu Stato ai comuni darai puri soldi imbassato su questo quanto ti serve e quanto di quello che ti serve non riesce a tirar su da solo si chiama la capacità fiscale dal 77 in poi dal 77 al 2014 in questo paese il criterio è stato un altro il criterio della spesa storica che è il criterio chi ha avuto ha avuto ha avuto cioè quello che ti davo l'anno scorso ti do quest'anno ma come? eh sì perché nel 77 abbiamo fatto una sorta di negoziazioni anche un pochino a seconda di quali il senatore ho cominciato a darti dei soldi e da lì in poi siamo degli stessi poi quando ho dovuto tagliare perché ho dovuto tagliare come si fa a tagliare in un sistema del genere? linearmente un po' a tutti sulla base della popolazione questo è il criterio della spesa storica in vigore in Italia dal 77 al 2014 e noi Beton non ci piace noi vogliamo un criterio in cui lo Stato i soldi e i comuni gli dà sulla differenza tra quello che gli dovrebbe costare un servizio e quello che non riescono a coprire con le loro tasse e questo è diverso dal giro militare e io voglio andare a vedere per ciascun comune quant'è lo voglio mettere online www.opencivitas.it è online da maggio l'avete mai sentito qualcuno che è andato a guardarci? trovate ancora dati 2010 perché i comuni non sono proprio svelti nel rispondere ai questionari sui bisogni standard non i comuni di questa regione probabilmente e adesso stiamo come sapete approvando finendo il giro dei dati 2013 quindi dati aggiornati 2013 e allora l'anno scorso abbiamo cominciato a dire d'ora in poi l'anno scorso quindi sul 2015 fatto 100 i soldi che lo Stato dà ai comuni 20 euro vanno con il nuovo sistema cioè 20% del fondo di solidarietà comunale non viene dato più su base storica ma viene dato su base di questo nuovo sistema quest'anno 30 perché è così che si fa non fai 100% subito disegni un cammino graduale perché è una rivoluzione è una rivoluzione non tutti sono contenti anche probabilmente mi direte un cosane pensate perché è un'altra cosa essere costretti a confrontarsi con quello che un servizio dovrebbe costare 20% l'anno scorso 30% quest'anno 40% l'anno prossimo 55% nel 2018 per ora ci fermiamo qui ma andremo fino al 100% spero nel 2020 vuol dire che per allora l'Italia avrà un sistema in cui al 100% i soldi ai comuni vengono dati sulla base del sistema che vi dicevo prima questo cosa implica che ogni anno soprattutto quando si taglia quest'anno sapete non si taglia neanche un euro non possiamo escludere che da qui alla fine dei tempi non si debba tagliare altro ai comuni ma quando si taglia significa che non si taglia lo stesso a tutti e qui c'è un qualcosa di divertente su cui davvero chiudo voi avete mai sentito qualcuno negli ultimi anni non dire basta con i tagli lineari lo dicono tutti è diventato un must e io molti di quelli che in tv andavano a dire questo quando noi abbiamo cominciato a applicare questo sistema hanno cominciato a dirmi una cosa non troppo diversa da quella che alcuni colleghi universitari gli hanno detto sulla ripartizione dei soldi perché a quella città hai tagliato più che a me mi devi tagliare come a lei perché abbiamo gli stessi numeri di abitanti e no quello è il taglio lineare se ti ho tagliato di più vuol dire che per la parte di competenza di quel 20% tu stavi spendendo di più del tuo fabbisogno standard poi guardate il calcolo del fabbisogno standard è una cosa non facile una tecnica statistica econometrica su cui discutiamo possiamo affinare possiamo discutere ma smettere il contaglio lineare vuol dire che due città con 30.000 abitanti in una se mai si tornerà a tagliare non hanno lo stesso taglio o comunque anche senza tagliare non hanno gli stessi soldi perché a sto punto i soldi vengono dati sulla base di fabbisogno standard e capacità fiscali che è un modo più meritocratico di distribuire i soldi questo è quello che si è fatto su finanza locale un paese sfasciato per 40 anni non si mette a posto in 6 mesi non si mette a posto neanche in un anno o in due anni si fa con un orizzonte temporale sufficientemente lungo e quello che stava deciderando gli italiani a cominciare a riferire l'anno di ottobre e lo si fa con un po' di coraggio forse qualcuno dice che è inconscienza ma non lo so un po' di coraggio nell'andare ad affrontare senza paure a viso aperto tutti i nodi che hanno un po' tradito quello che continuiamo nonostante tutto a credere sia un grande futuro che questo paese sia costruito dopo la guerra e che speriamo di poter costruire per tutti noi grazie scusate grazie